I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei soggetti ritenuti gravemente indiziati di lesioni, violenza privata e distorsione aggravate dal metodo mafioso. I reati sono stati commessi nell'intento di affermare la forza e il controllo sul territorio del clan Orlando. Le indagini hanno permesso di ricostruire il coinvolgimento degli arrestati nel pestaggio di un cittadino albanese residente a Marano di Napoli. I fatti risalgono a febbraio 2018 quando la vittima accusata da clan di aver picchiato la ex compagna poi divenuta la donna di uno di loro venne invitato con un escamotage all'interno di una palestra di Marano di proprietà di uno degli indagati ove ad attenderlo erano presenti tutti gli arrestati. Senza dargli alcuna possibilità di replica lo aggredirono brutalmente con calci e pugni intimandogli di andare via da Marano. Non potendo denunciare il pestaggio per paura di ulteriori ritorsioni al fine di racquistare la propria serenità e quella dei propri cari fu costretto a versare un compenso in denaro, un regalo alla criminalità organizzata locale.